Riforme, lavoro, ruolo dei partiti, transizione ecologica, i grandi temi che animano il dibattito pubblico sono stati al centro dell'incontro di apertura di Futura 2021, la tre giorni promossa dalla CGL. Il segretario generale Maurizio Landini insieme al segretario del PD Enrico Letta, al leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte e alla vicepresidente della regione Elislein ha fatto il punto sugli aspetti cruciali per il futuro del paese e dei territori. Non possiamo passare dalla pandemia del virus alla pandemia dei salari e dall'altra parte abbiamo bisogno di creare lavoro che non sia precario ma che sia stabile. I dati ci dicono che anche questa ripresa a tre quarti sono contratti a termine che durano un mese, due mesi, c'è ne solo credo l'un per cento che dura quasi un anno. Quindi siamo di fronte a un problema molto serio. Questi investimenti, questa ripresa, gli investimenti anche del PNR non possono essere utilizzati per non creare lavoro stabile, per non dare lavoro ai giovani, alle donne al mezzogiorno. E poi ci sono dei contenuti espliciti. La riforma delle pensioni, la riforma del fisco, la riforma degli ammortizzatori sociali, la riforma della pubblica amministrazione. Nella legge di bilancio bisogna mettere i soldi per rinnovare i contratti della scuola, del pubblico impiego, della sanità e quindi è chiaro che per noi questo è il tema e l'oggetto della discussione.